Siamo qui nell'azienda Del Fosco, mi presento, sono Domenico Del Fosco, c'è Carlo Del Fosco e mio fratello Andrea. Noi facciamo parte di un gruppo familiare che è la terza generazione che fa produzioni di ortaggi. Siamo nel Fucino, ad Avezzano, Aquila. Abbiamo un'azienda di circa 55 ettari di terreno dove coltiviamo col metodo biologico dal 1998. Le nostre produzioni sono dedicate esclusivamente a patate, carote, finocchi, insalate, sedano, radicchio rosso e anche altri ortaggi di altissima qualità e di altissimo pregio. Io sono qui a presentarvi i nostri mezzi che abbiamo rinnovato da un anno e mezzo a questa parte grazie a Deutz Far che ci ha supportato in questo rinnovamento tecnologico e prestazionale. Noi abbiamo acquistato un 9340 Warrior, un 7250 Warrior, un 6155.4 TTV con caricatore frontale di cui siamo veramente soddisfatti e ci stanno dando grandi soddisfazioni. Grazie a Deutz Far adesso proveremo il 7250 HD in anteprima.